Parlare di fake news vuol dire soprattutto parlare della costruzione dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica oggi non esiste più in quanto un unico corpo, esistono le opinioni pubbliche che si formano nel percorso digitale di ciascuno di noi. Rispondere, saper reagire e portare avanti un'informazione diversa vuol dire lavorare in questo terreno, vuol dire conoscerlo ma soprattutto vuol dire fare un lavoro migliore rispetto a quello che si faceva in passato perché non è facile essere nelle opinioni pubbliche delle varie persone, dei vari gruppi di persone. Faccio un esempio, sono scomparse quelle che erano le camere di compensazione. Prima c'era una fruizione top down dall'alto verso il basso di quelle che erano informazioni. Oggi le informazioni arrivano dal basso e in questo mare enorme di informazioni per emergere bisogna essere più bravi, non meno bravi rispetto al passato.